Cosa rimane quando l'arte è stata cancellata per lei? Quando la musica è sparita, quando la poesia è stata proibita? E badate che non è fantascienza, i teatri chiudono, le compagnie falliscono, i corpi di valido, i scenari peggiori non sono mai quelli immaginari. Chilometro 12, regia di Emiliano Raia, è un'indagine all'interno di noi stessi, un'analisi di ciò che ci rende male, ma è anche una riflessione profonda sul senso della memoria e sul valore della storia, due temi che in questo momento per me sono di primaria importanza. Sette giovani performer, alla riscoperta della nostra cultura musicale e della gloriosa storia della RCA italiana, hanno bisogno di voi. Grazie a chi vorrà aiutarci. Vi aspettiamo presso altro spazio, al 7 e 11 e 12 giugno. Grazie a tutti.